Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore noi siamo lettori curiosi esigenti e spesso fuori dal coro siamo convinti che un libro sia il miglior posto per incontrarsi e conoscersi e per questo vi invitiamo a scoprire o riscoprire con noi titoli famosi classici libri talvolta di nicchia o semplicemente diversi dai best seller di moda vi ricordiamo anche che sul nostro sito trovate le puntate del nuovo giallo di silvia volpi la metà pericolosa una lettura in esclusiva per i nostri scritti disponibile fino a dicembre del 2020 un classico della letteratura disegnata e una splendida storia di fantascienza così può essere riassunto il contenuto di sogni di bambini domo romanzo grafico che a mio parere è il capolavoro di katsuhiro otomo intanto vi dico subito questo che l'originale di sogni di bambini sogni bambini era è apparso in giappone nel 1980 ed era diviso in sei volumi in seguito poi come tutte le graphic novel riunito in un volume unico in italia è stato pubblicato per la prima volta dalla comic art negli anni 90 nei primi anni 90 nel 1992 se non vado errato e anche in quell'occasione la prima edizione aveva era divisa in più volumi ma adesso il il libro si trova in edizione unica si trova solo in edizione unica ed è stato restampato veramente molte volte da io possiedo l'edizione panini ma la trovate veramente in tutte le in tantissime in tantissime edizione la trama è semplice in un quartiere alla periferia di tokyo dove la gente vive in anonimi casermoni si susseguono suicidi e presto si sparge la voce che ci sia una maledizione ma l'arrivo della protagonista sulla scena romperà un micidiale equilibrio di follia e scatenerà un autentico caos sogni di bambini racconta una storia ancora molto attuale nonostante gli anni di rapporti umani nel contesto delle grandi città alle quali viene riconosciuto il potere allenante e annullante nei confronti delle relazioni umane il romanzo è anche una partecipata riflessione sulla difficoltà di essere bambini in una società come quella moderna che impone a tutti a tutti i suoi ritmi frenetici e in cui pare non esserci più spazio per la fantasia e per i giochi sceneggiatura di respiro kingiano potremmo definirla che non rinuncia attraverso le immagini le pause l'atmosfera onirica e allucinata dei precedenti lavori di otomo con sapiente uso di campiture nette vuoti silenzi che conferiscono la narrazione mandamento spezzato e angosciante un volume assolutamente da leggere destinato a chi ama la narrativa sequenziale e chi apprezza la fantascienza di matrice orientale nonché a chi ama lo stile davvero unico di katsuhiro otomo se avete letto questo libro e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito o seguiteci su instagram trovate link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture grazie a tutti